Oggi il nostro giro per i comuni del San Graventino prosegue e siamo arrivati a Pollutri, siamo tornati a Pollutri dal sindaco Nicola Benedetti che è ormai in scadenza di mandato e quindi così come abbiamo fatto anche con il sindaco Scarica Ciottoli di Paglieta, più che parlare delle attività amministrative dell'ultimo anno vorrei fare con lui un excursus su quanto fatto nell'arco dell'intera sua amministrazione che sta per scoccare al quinto anno. Una bella domanda questa, anche perché insomma la situazione non è proprio così florida, va detto che comunque abbiamo dovuto affrontare forse il periodo peggiore, ma io credo proprio degli ultimi cento anni insomma, perché lo si sa, lo si capisce, lo si sente, però un momento amministrativo così complicato non lo si viveva da tantissimo tempo, forse non lo si era neanche mai vissuto. Io sinceramente provengo da un'attività amministrativa diciamo di lungo respiro però che ha avuto dei momenti molto belli, dei momenti in cui potevamo da sindaci insomma anche da amministratori, da consigliere, da assessore, potevamo in qualche modo essere più coinvolgenti, fare molto di più per i concittadini amministrati. L'ultimo periodo che è iniziato nel 2008, quindi un po' prima della rielezione, è stato il periodo peggiore della nostra storia repubblicana, ma anche proprio possiamo anche andare un po' più indietro. Molti dicono che la crisi economica che stiamo vivendo e che abbiamo vissuto e che spero comincia a essere un pochino alle nostre spalle, me lo auguro fortemente, sia anche più forte di quella del 1929. E noi ci siamo ritrovati in mezzo a questa bufera, ci siamo ritrovati ad amministrare i nostri concittadini. Ci siamo ritrovati con un governo statale che ci imponeva delle regole sempre più ferree, che ci obbligava a rientrare e quindi ad abbattere la percentuale di indebitamento. Va detto che la percentuale di indebitamento che prima era del 14%, adesso è stata abbattuta intorno al 6%. Quindi diciamo che le amministrazioni, i comuni, si sono ritrovati bloccati e fermi, proprio non potendo contrarre mutui per fare nuove opere. E nello stesso tempo abbiamo avuto anche la forte congiuntura che ha bloccato anche quelle che erano effettivamente le nostre piccole entrate. Negli ultimi anni, tante entrate che in qualche modo giravano ed entravano nelle casse comunali, adesso non ci sono più, basti pensare, ne dico una per dirne tante, proprio all'Acquedotto che magari fino a qualche anno fa, fino a 7-8 anni fa, era gestito direttamente dall'ente locale. E comunque era un'entrata, era una gestione che in qualche modo poteva dare un respiro all'amministrazione comunale, che adesso non c'è più. Quindi ci sono state tutta una serie di eventi, dalla parte la crisi economica fortissima, dall'altra parte forse delle norme sbagliate, che poi si sono rivelate sbagliate e che si sono manifestate in tutta la loro drammaticità proprio in questi anni. E quindi siamo arrivati ad oggi, che a mio dire, però non credo che sono l'unico a pensarlo in questo modo, è stato il periodo più difficile per amministrare un paese. Noi abbiamo continuato, abbiamo continuato a cercare di incitare il più possibile proprio i nostri concittadini a non perdersi d'animo, a continuare a credere nella nostra Italia, nella nostra Pollutri, a continuare ad operarsi quotidianamente per fare. Noi di fondi propri non ne abbiamo tantissimi, abbiamo, con i nostri fondi propri, abbiamo cercato di fare le manutenzioni ordinarie, che vanno proprio dalla manutenzione della scuola, insomma, va da sé che è proprio un intervento immediato degli ultimi giorni per il riscaldamento che purtroppo sono impianti vetusti, tante volte si parla di strutture realizzate negli anni 50 e negli anni 60, che adesso effettivamente con il loro peso stanno proprio, effettivamente stanno in qualche modo, sono fortemente danneggiate. Quindi parliamo di ordinaria manutenzione, però parliamo anche di programmazione per il futuro. Noi in questo momento, non potendo fare tante cose, ci siamo limitati a fare una forte programmazione. Da sempre abbiamo cercato di dare un taglio prettamente turistico al nostro paese. Abbiamo delle risorse, quali il Bosco di Don Veranzio, che cerchiamo di valorizzare al massimo, e lo cerchiamo di valorizzare proprio per far sì che questa area diventi un volano per la nostra economia, ci abbiamo sempre creduto, e quindi abbiamo cercato di continuare a potenziare con quello che era possibile fare in questo momento, proprio per far sì che quell'area fungesse proprio da motore per la nostra economia locale. Quindi stiamo cercando di dirottare le nostre poche risorse verso quei settori che possono e potranno poi dare giovamento al nostro ente locale. Nello stesso tempo non ci fermiamo mai di chiedere finanziamenti continui, finanziamenti che possiamo chiedere solo finanziamenti integrali, con il 100% proprio del contributo, perché il Comune di Pollutri, ma credo anche tanti altri comuni, non possono permettersi oggi di cofinanziare alcun progetto, e quindi devono solo aspettare dei finanziamenti integrali da parte della Regione e da parte dello Stato. Quindi abbiamo continuato a chiedere finanziamenti a tutto spiano, noi abbiamo chiesto sempre un finanziamento pari a 205 mila euro, sempre per la riserva, per continuare ad abbellire quel luogo e per far sì che effettivamente sia da volano, da motore per la nostra economia, e l'abbiamo ottenuto questo finanziamento, quindi i lavori a breve sulla riserva partiranno. Abbiamo avuto altri due finanziamenti, uno da 35 mila euro e uno da 45 mila euro, rispettivamente per la scuola elementare e per la scuola media, dei finanziamenti che proprio abbiamo avuto un incontro con il dottor Linetti del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, e che quindi a brevissimo potranno partire, ci sono già i progetti, l'attività è tutta stata delegata al Ministero, quindi a brevissimo partiranno i lavori. Poi abbiamo, come sempre, abbiamo chiesto tanti altri contributi, proprio sempre per la scuola elementare, che dicevamo prima è una struttura realizzata dalla Cassa del Mezzogiorno nel 1954, il tetto è un tetto a cui sono sempre state fatte delle manutenzioni ordinarie, però mai una manutenzione straordinaria e davvero in questo momento ne ha un forte bisogno, quindi abbiamo chiesto altri 403 mila euro per la manutenzione straordinaria del tetto e previsto praticamente lo smantellamento integrale dell'attuale copertura con una buona sistemazione tramite terrazzamento della copertura esistente, proprio per una messa in sicurezza e anche per il futuro. Nello stesso tempo stiamo continuando a chiedere i finanziamenti per la difesa del suolo, abbiamo già il nostro territorio, il nostro comune già, diciamo, fortemente cinto da mura, però dobbiamo continuare proprio per far sì che la posizione proprio del nostro comune non sia poi il danno di Pollutri, quindi dobbiamo continuare con questi muri di sostegno che possano difendere effettivamente dall'erosione e quindi dalla discesa a valle. Abbiamo chiesto ancora questo finanziamento, siamo in attesa di un ulteriore tranche di finanziamento, tutto proprio per continuare e per ultimare, perché si tratta di un ultimo tratto da fare, tutto il resto è già stato murato, basta quest'ultimo tratto e quindi siamo in attesa, siamo anche, devo dire, in fiduciosa attesa riguardo a questo finanziamento. Ci siamo inseriti con il programma 6.000 campanili, il programma che riguardava tutti i comuni al di sotto dei 5.000 abitanti, tutti i comuni d'Italia. Noi abbiamo richiesto, con il nostro progetto, abbiamo chiesto di poter riasfaltare tutte le nostre strade comunali, si tratta di oltre 14 chilometri di strade comunali, che hanno bisogno di essere riasfaltate. Come dicevamo prima, l'ente locale non può né contrarre mutui, né effettivamente oggi operare con fondi propri, perché non ce ne sono di fondi propri, ovvero dovremmo ultratassare i concittadini, ma comunque anche facendo questo non potremmo mettere da parte le somme necessarie per poter riasfaltare le strade. Fermo restando che poi andremmo anche incontro ad ulteriori problematiche che non ci farebbero fare questi lavori. Però abbiamo chiesto, tramite proprio questo programma, i 6.000 campanili, abbiamo chiesto proprio con la nostra progettazione un finanziamento ad hoc per poter riasfaltare tutte le strade del nostro comune. Siamo in attesa, qui c'è stato già un primo finanziamento da notizie che sono trapelate da parte del Ministero. Pare che a breve ci sia un ripescaggio di ulteriori comuni per questo finanziamento e quindi ci auguriamo che anche il nostro comune rientri in questo finanziamento. Poi abbiamo anche chiesto un intervento di messa in sicurezza, questo sempre con i PARFAS 2007-2013, sempre della Regione Abruzzo, quindi un intervento di messa in sicurezza dell'edificio comunale. Ci sono dei lavori per il miglioramento della sicurezza strutturale dell'edificio della Scuola Media. Un altro programma, sempre questo con il programma di sviluppo rurale, e anche questo ci è stato approvato per 211.000 euro, sempre per ultimare una vetrina enogastronomica al Bosco di Don Venanzio. Questo era un progetto di cui in qualche modo ne vado veramente fiero, perché era quello che da tanto tempo sognavamo, poter realizzare una vetrina enogastronomica all'interno della riserva, proprio affinché poi i visitatori della riserva potessero vedere quelle che erano e quelle che sono le peculiarità del nostro paese, della nostra Pollutri. E quindi ci auguriamo proprio con questo finanziamento di poter ultimare questo progetto e per rendere davvero fruibile al massimo quella che è la nostra riserva. E quindi con questo finanziamento penso che effettivamente noi possiamo farcela. Poi ci sono sempre interventi per la costituzione del verde urbano. Questo era un progetto finanziato dalla provincia di Chieti. Abbiamo un piccolo parco qui a Pollutri che vorremmo risistemare, che vorremmo con questo finanziamento ad hoc proprio rimettere in sesso, rimettere a nuovo. Abbiamo chiesto un ulteriore finanziamento per la ristrutturazione della palestra comunale, che è anche la palestra della scuola media, un finanziamento di 75 mila euro. Ci sono ulteriori finanziamenti sempre per la ristrutturazione degli impianti sportivi che abbiamo giù a Valle del Paese. E ancora sulla copertura della palestra per ulteriori 40 mila euro. e ci sono poi, beh, questa è la bonifica della discarica. Questo è un finanziamento regionale che, proprio per bonificare la ex discarica in via Gavone, per far sì che proprio da ex discarica torni ad essere un terreno risanato. Insomma, e quindi questi sono i progetti che effettivamente abbiamo già approvato in giunta, ci sono già i progetti approvati. Siamo in attesa dei finanziamenti proprio per far sì che la nostra Pollutri, il nostro Paese, possa realizzare queste opere che comunque sono fondamentali per la nostra economia, ma anche per avviare Pollutri per i prossimi 20 anni e per far sì che progredisca ancora proprio nel benessere che abbiamo, grazie a Dio, sempre avuto, ma che questi anni di crisi dal 2008 ad oggi di fatto hanno un po' fermato. Quindi noi dobbiamo continuare a lavorare in momenti del genere, in momenti in cui non ci sono tante risorse, in momenti in cui sembra che tutto giochi contro. Noi dobbiamo, è il nostro preciso dovere, continuare quantomeno a progettare il nostro futuro e a porre le basi per far sì che si vada avanti, perché comunque il futuro arriva e il futuro arriva sempre, quindi sta a noi poi aver posto bene o male le basi per questo futuro. E io credo che la nostra azione amministrativa sia stata effettivamente buona in questo senso, perché comunque non siamo stati dispendiosi e in un momento del genere siamo stati attenti ai costi dell'ente locale. Abbiamo comunque cercato che il nostro comune restasse in qualche modo leggero, proprio perché ho sempre avuto la convinzione che un comune che non sia gravoso con le tasse nei confronti dei concittadini possa effettivamente essere di aiuto, liberando delle risorse diverse e che i cittadini possano poi fare investimenti diversi proprio per creare a loro volta ricchezza. E credo che in questi anni questo lo abbiamo fatto, anche se con enorme difficoltà, perché comunque le situazioni che avevamo intorno era una situazione abbastanza problematica. Nello stesso tempo stiamo avviando questo discorso insieme alle comunità di Cerni, di Casalbordino e di Villa Alfonsina, che è l'Unione dei Miracoli. Io sono sempre stato convinto e la mia battaglia che sto portando, ma che è una battaglia tra l'altro condivisa anche dai colleghi sindaci, è quella proprio di avere un ente che non sia un fardello pesante, di avere un ente che possa essere di aiuto ai cittadini, ma che non diventi invece un qualcosa di gravoso, perché tante volte la politica è brava ad appesantire, la politica è brava magari a far sì che si creino dei carrozzoni clienterali. Quello che proprio dobbiamo evitare è proprio questo, perché noi dobbiamo avere degli enti che funzionino, degli enti leggeri, degli enti che costino poco ai concittadini. Questo è sempre... stiamo lavorando per questo motivo e dobbiamo effettivamente continuare affinché si vada proprio in questa direzione. nello stesso tempo in questi anni ci siamo... lo stiamo ancora facendo, insomma, abbiamo avuto una... delle difficoltà proprio con il Bosco di Don Venanzio, dove questo bosco, questa è una riserva regionale che nasce proprio per volontà del Comune di Pollutri, perché il Comune di Pollutri con una propria delibera chiede l'istituzione della riserva regionale, nello stesso tempo la Regione Abruzzo istituendo per legge regionale la riserva, inserisce o non so se l'inserimento è stato fatto per errore dal Comune di Pollutri o non so, però fatto sta che ci ritroviamo con una problematica che in qualche modo ci sta assillando negli ultimi anni e che è quella di avere una legge regionale che parla di Bosco di Don Venanzio nel Comune di Pollutri e che però rimanda ad una cartografia allegata e la quale cartografia contempla anche dei territori che sono sul Comune di Vasto e da qui quindi è nata tutta una problematica inerente che stiamo lavorando proprio per dirimere perché noi sosteniamo che il Bosco di Don Venanzio debba restare così come per volontà di chi ha deliberato prima di me nel Consiglio Comunale di Pollutri debba restare nel Comune di Pollutri e del Comune di Pollutri anche perché non ci sono di fatto aree boschive al di fuori del Comune di Pollutri quindi le aree che per errore sono state inserite nella cartografia sono aree di fatto a vigneto a frutteto e anche dei seminativi però sono aree dove non ci sono piante non c'è bosco e quindi proprio come amministrazione comunale non vediamo la valenza di quei luoghi e quindi crediamo che non debbano essere riconosciuti come riserva ma che siamo anche disponibili ad ampliare la riserva sul nostro territorio comunale dove ci sono ci sono effettivamente c'è una un prolungamento del nostro bosco però crediamo che effettivamente la regione Abruzzo debba sanare questo problema semplicemente eliminando le aree che sono sul Comune di Vasto e che non sono aree a bosco ma sono aree adibite all'agricoltura di Vasto di Vasto di Vasto